Musica Anche quest'anno Film Fair ha le giornate del cinema muto, l'area vendite, dove c'è lo stand delle giornate, gli stand dei nostri collezionisti italiani e stranieri. Nello stand delle giornate troverete ovviamente il merchandising di quest'anno che è molto vario e ricco, ci sono magliette, tazze, borse, matite, astucci e oltretutto ci sono libri, DVD da Cinetech e case di produzione, editori italiani, esteri e quest'anno sono in programma nuovamente le presentazioni dei libri che si svolgeranno sempre qui a Film Fair al secondo piano del Teatro Verdi ogni giorno in orario variabile ma da mezzogiorno e alle 6 generalmente, conseguente rinfresco in zona bar. Grazie! 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 Grazie!